Buonasera e benvenuti al diario di Papa Francesco, benvenuto al Cardinallo Iudice, Arcivescovo di Siena. Buonasera. Buonasera a lei, Gennaro e a tutti quelli che ci stanno seguendo. E benvenuto al professore Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Buonasera. Oggi in realtà più in veste di storico e di autore di un libro che ha dato lo spunto alla puntata di oggi. Il libro appena uscito si intitola La Chiesa brucia, crisi e futuro del cristianesimo. Ecco la copertina. Facciamoci guidare però dentro alcuni elementi di crisi dalle parole di Papa Francesco che di elementi di crisi, di difficoltà, in quello che lui ci fa notare essere non un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca. Ne ha parlato spesso. Quello che stiamo per sentire è un brano di un discorso tenuto due anni fa ai partecipanti di un convegno organizzato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione. Spesso succede che la Chiesa sia per l'uomo di oggi un ricordo freddo, se non una delusione coccente, come era stata la vicenda di Gesù per i discepoli di Emmaus. Tanti, soprattutto in Occidente, hanno l'impressione di una Chiesa che non li capisca e si allontana dai loro bisogni. Alcuni, poi, che vorrebbero assecondare la logica poco evangelica della rilevanza, giudicano la Chiesa troppo debole nei confronti al mondo, mentre altri la vedono ancora troppo potente a confronto con le grandi povertà del mondo. Direi che è giusto preoccuparsi, ma soprattutto occuparsi, quando si percepisce una Chiesa mondanizzata, che segue, cioè, i criteri del successo del mondo e si dimentica che non esiste per annunciare se stessa, ma Gesù. Una Chiesa preoccupata di difendere il suo buon nome, che fatica a rinunciare a ciò che non è essenziale, non prova più ardore di calare il Vangelo nell'oggi, e finisce per essere più un bel reperto museale che la casa semplice e festosa del padre. Professore, abbiamo appena sentito Papa Francesco individuare dei punti di crisi della Chiesa in questo tempo. Lei questi punti li ha analizzati a fondo e si è fatto aiutare come metafora da un episodio di cronaca che ricordiamo tutti, quello del rogo della cattedrale Notre-Dame a Parigi di due anni fa. Quali sono nella sua analisi i punti nodali di questa crisi che viene da lontano? Ma non solo mi sono fatto aiutare, ma direi che la percezione di non pochi in Francia e in Europa e anche forse fuori dall'Europa di fronte all'incendio di Notre-Dame era che fosse un fatto reale, ma fosse allo stesso tempo qualcosa di simbolico. Fosse l'espressione di un declino o di una crisi che scendeva molto in basso quando i parametri vitali sono così bassi che è difficile riprendersi. Capisco che questo può sembrare pessimista, ma io credo che occorra un'analisi seria di fronte alla situazione attuale che è la situazione della Chiesa, dei credenti, dell'uomo, ma anche della società complessivamente per evitare, come dice Giuseppe Dossetti, di continuare a rabberciare, ma andare a fondo dei problemi per aprirsi a una prospettiva non a un modello, non a una soluzione, ma a una prospettiva più larga di speranza verso il futuro. Quando io parlo di irrilevanza della Chiesa, non lo faccio nei termini di potere, quanto conta la Chiesa, quanto pesa la Chiesa. Questo potremmo dire che tutte le voci che tanti anni fa si elevavano contro la potenza della Chiesa e anche a ragione o l'ingerenza o via dicendo, quello che vogliamo, oggi in gran parte tacciono. Lo diceva Moltmann, il teologo tedesco, anni fa, l'irrilevanza della Chiesa è l'irrilevanza nel comunicare il Vangelo, nell'essere vicino ai poveri, è non essere nella storia. Quali sono le evidenze di essere, di non essere oggi? Quali sono le cose che le preoccupano di più di questo essere fuori dalla storia? Che sono un sintomo di questo? Ma innanzitutto la Chiesa è un corpo complesso, un popolo, quindi noi possiamo trovare segni di crisi, possiamo trovare gerbi di novità, possiamo trovare testimonianze evangeliche coraggiose, possiamo trovare aspetti negativi. A me sembra un certo, allora da un lato, se vogliamo, i parametri vitali, la frequenza o la presenza alle celebrazioni liturgiche che sono state sempre considerate considerate giustamente o ingiustamente diciamo un parametro, quando noi in Francia andiamo sul 2-3%, questo ci colpisce, ma i parametri vitali sono tutti in discesa, anche in Polonia. Oppure possiamo pensare al problema del prete, che non è solo l'abbassamento del reclutamento della presenza sacerdotale, ma è la difficoltà e la crisi del prete, che secondo me non va a affrontare da solo in modo isolato, ma va affrontata assieme a quella che è la crisi del maschio, del padre, del maestro e via dicendo, e paradossalmente anche del prete. E poi tutto un insieme di altri, diciamo, elementi che rendono preoccupanti e soprattutto e qui mutuo l'espressione da Davide Turoldo è il grigiore liberami dal grigio. Cardinale, si tratta, intanto le chiedo se condivide quello che ha detto il professor Riccardi, ma poi la cosa che mi interessa di più è se questi parametri vitali che indicava Riccardi sono appunto effettivamente le cose da misurare per capire lo stato di salute della Chiesa, se c'è un problema di strutture o se c'è un problema proprio di cultura, di come la Chiesa pensa se stessa e si comunica al mondo. Ecco, intanto saluto il professor Riccardi e gli amici della comunità di Sant'Espitio è un po' che non ci vediamo ma insomma avremo sicuramente occasioni nel prossimo futuro spero. Intanto così effettivamente leggere il libro del professor Riccardi si lascia un po' una specie di amaro in bocca ma insomma è possibile che è tutto così tragico ma poi dietro le righe ovviamente non c'è solo la tragicità cioè la descrizione analitica e da storico insomma è inutile che ci soffermiamo su questo Carabrea da un'analisi storica corretta correttissima come la tua non può che uscire fuori questo risultato sono dei parametri secondo me ecco colgo la direzione della domanda che mi fa Gennaro io credo che dentro questa crisi che è una delle crisi se vogliamo dire così perché ecco qui il professor Riccardi potrebbe senz'altro aiutarci a comprendere come nella storia non sono mancate le crisi anzi ce ne sono state tante ma quasi potrei dire con una specie di di battuta forse la storia della chiesa è una storia della crisi dall'inizio da se vogliamo dire dall'insorgere del collegio apostolico intorno a Gesù che diventa un collegio di apostoli a partire dalla crisi perché vanno in crisi come come ci ricordano i passi evangelici diciamo soprattutto quelli della passione quelli delle prime apparizioni il brano classico e famosissimo dei discepoli di Emmaus sono tutti andati in crisi alla luce dell'evento di questo fatto che è rimbalzato in faccia a loro e quindi la morte di Gesù nonostante gli annunci plurimi che Gesù aveva fatto della sua risurrezione una parola difficile da capire certamente gli errori storicamente errori se ne sono fatti tanti io credo che in questo momento ci sia un gran bisogno di una quella che potremmo chiamare con una parola che chiaramente non dice tutto spero che non devi quello che voglio dire una sorta di riorganizzazione delle forze perché è vero che le percentuali si abbassano e tutto quello che vogliamo anche di frequenze in chiesa non parliamo poi di questi mesi di questo anno di covid ma io credo che un attento riordino delle forze un modo anche diverso di concepire di pensare alla pastorale delle parrocchie ad esempio di cui anche nel libro il suo Riccardi parla io credo che sia da lì un pochino che bisogna ripartire ripeto un'analisi per quanto dura per quanto severa ma reale vera è ciò di cui c'è bisogno guai se un medico facesse una una diagnosi così aggiustata ma sì più o meno dai una botta qui una botta lì no io apprezzo il medico che riconosce alla malattia e gli dà il giusto nome affinché si possa individuare una giusta terapia e quindi una una pura perché questo è il punto mettersi in un ascolto attento profondo della parola di Dio e dello Spirito Santo che suscita anche oggi tanti credenti la santità del quotidiano la santità della porta accanto tante situazioni che probabilmente vanno messe maggiormente in relazione una con l'altro riorganizzando riordinando anche le forze che ci sono a disposizione perché è vero che il rischio è quello di partire o di ritornare o di cadere ma che non è un cadere per me e poi su questo e questo Riccardi anche su questo ci intendiamo bene ripartire dalla carità ripartire dal basso ripartire dai poveri e dall'attenzione a loro ma questo è esattamente il Vangelo è quello che il Vangelo ci chiede e se la nostra fede se la Chiesa deve essere una Chiesa del Vangelo del Vangelo di Gesù questi sono i principali criteri da cui deve partire e allora sì io condivido perché non si può non condividere un'analisi oggettiva un'analisi dei fatti credo che però ci siano anche parecchie parecchie diciamo così sorgenti di speranza che io vedo che io trovo che trovo anche quotidianamente che trovo ogni giorno di qua di là sopra e sotto magari nel posto dove meno te l'aspetti è vero che può sembrare un minimalismo vabbè dice ti accontenti delle piccole cose no il Vangelo e la fede cristiana nasce esattamente in questo modo a partire da un piccolo gruppo di discepoli chissà forse c'è da dire che non lo so che qualche esagerazione c'è stata nel corso della storia da questo punto di vista forse quella chiesa tra virgolette quando è diventata eccessivamente principesca o eccessivamente così insomma solennizzata forse si è staccata un po' da quello che era l'insegnamento evangelico e qui c'è tutta una riflessione che si potrebbe aprire tra il senso evangelico dell'inizio del cristianesimo e quello che poi la tradizione ha portato avanti però io credo ecco che dobbiamo ripartire da un'analisi severa ma anche da uno sguardo di prospettiva nella direzione della speranza Lei ha parlato di riorganizzazione Papa Francesco negli ultimi auguri fatti alla Curia per Natale ha parlato insomma di fare dei passi avanti degli esigenzi di aggiornamento in presenza della crisi sentiamo questo passaggio sotto ogni crisi c'è sempre una giusta esigenza di aggiornamento e un passo avanti non si tratta di rattoppare un abito perché la Chiesa non è un semplice vestito di Cristo bensì è il suo corpo che abbraccia tutta la storia noi non siamo chiamati a cambiare o riformare il corpo di Cristo se su Cristo è lo stesso ieri oggi è per sempre ma siamo chiamati a rivestire con un vestito nuovo quel medesimo corpo affinché appaia chiaramente che la grazia posseduta non viene da noi ma da Dio la Chiesa è sempre un vasso di creta prezioso per ciò che contiene e non per ciò che a volte mostra di sé questo è un tempo in cui sembra evidente che la creta di cui siamo impasti è scheggiata ingrinata spaccata dobbiamo sforzarsi affinché la nostra fragilità non diventi ostacolo all'annuncio del Vangelo ma l'uovo in cui si manifesta il grande amore con il quale Dio ricco di misericordie ci amati e ci ama qui il Papa sembra fare la stessa citazione professore di Dossetti che ha fatto che ha fatto lei o almeno il concetto è esattamente lo stesso non si tratta di di rabberciare rattoppare cito il suo ultimo riprendo le parole del Cardinale cito l'ultimo capitolo del libro dove la domanda è c'è futuro e quindi la domanda è è una crisi che fa parte come ci diceva il Cardinale Iudice della storia sin dall'inizio della Chiesa oppure come lei analizza potrebbe essere un segno di un declino definitivo sì io vorrei riprendere proprio quello che diceva il Cardinale che saluto anch'io che mi fa piacere vedere anche se a distanza la storia della Chiesa è una storia di crisi Deunamuno scriveva l'agonia del cristianesimo e io dico la condizione normale del cristianesimo è agonica non solo nel senso che sta per morire ma agonia nel senso greco di lotta di lotta pacifica ed evangelica nella storia una serie di crisi molte crisi sono state interpretate come crisi che vengono dall'esterno pensiamo per esempio nel novecento la persecuzione la persecuzione e l'approccio con il comunismo che è una delle grandi crisi della Chiesa crisi più interne come la crisi modernista come la crisi della contestazione post conciliare che però era una crisi che sapeva anche tanto di vitalità oggi la crisi ha un sapore diverso e dobbiamo ammetterlo la mia preoccupazione Don Paolo e lo dico francamente che essendo arrivati a difficoltà serie si mette la crisi un po' sotto il tavolo e ogni giorno c'è motivo per dire che la crisi è gravissima ma anche motivo per dire che in fondo non è così grave ma a me mi interessa l'espressione che usavi tu riorganizzazione può sembrare un'espressione se vogliamo inadeguata o del passato riorganizziamo le nostre forze creiamo qualcosa di più compatto no c'è quel rì che è fondamentale perché c'è qualcosa che non funziona nelle strutture e nella realtà di oggi e molto spesso noi passiamo del tempo forse è anche una lotta personale di un vescovo a gestire o a confrontarsi con la gestione e a vivere la fatica di andare oltre la gestione che sono strutture pesanti e anche del passato perché dico del passato perché noi continuiamo per esempio a parlare di secolarizzazione sì ma dov'è la secolarizzazione c'è la secolarizzazione ma qui c'è la globalizzazione che è tutta un'altra cosa allora riorganizzare vuol dire da un lato come tu dicevi ripensare alla parrocchia vuol dire anche liberare energie a un nuovo entusiasmo evangelico e a una prossimità ai poveri a un ripartire con i poveri liberare energie e qui io penso che c'è una struttura ancora troppo monarchico maschile in cui per esempio il discorso delle donne che non è questione istituzionale il sacerdozio delle donne o altro ma è questione di una reale comunione tra uomini e donne la chiesa credo che questo debba portarci a un ripensamento a dei pensieri lunghi a dei pensieri coraggiosi che lasciano lo spirito lavorare e che lasciano vivere nella storia e fare l'esperienza della storia che è esperienza di fallimenti di crisi che è esperienza anche di novità io sono molto d'accordo con quello che dicevi la speranza certo non è perduta siamo nelle mani di Dio la chiesa ha passato tante crisi dobbiamo dire anche che alcune chiese sono morte se noi pensiamo per esempio alla chiesa di Sant'Agostino la chiesa nordafricana vediamo che quella chiesa è scomparsa il problema dei cristiani in oriente sopravvissuti non diciamo l'islam perché sono sopravvissuti a secoli di islam e oggi nell'era della democrazia vivono il momento più grande della loro crisi io penso che il pessimismo è un cattivo consigliere allo stesso modo di come l'ignoranza del fenomeno come diceva Papa Francesco io nell'ultimo capitolo non mi permetto non ho la competenza il mio è un libro da storico ma è anche un libro da innamorato della chiesa e quindi è un libro sul filo ecco ma sul c'è futuro non mi permetto di dire cosa fare mi permetto solo di dire che bisogna intravedere le vie del futuro e queste vie del futuro si intravedono tra due colori l'ingraggimento l'ingrigimento e l'aurora allora qual è un'aurora che intravede l'arcivescovo di Siena allora intanto come si vede l'aurora da Siena bene bella devo dire soprattutto da certe angolature da certi panorami e qui diciamo il palazzo arcivescovile è una punta diciamo è una delle punte più alte di Siena quindi sicuramente soprattutto da un terrazzo che c'è qui sopra si vede veramente molto molto bello assolutamente sono d'accordo con te guai a mettere la crisi sotto il tavolo sotto il tappeto perché è solo un modo per chiuderci gli occhi e far finta che qualcosa non ci sia assolutamente ci mancherebbe altro anzi anzi è una delle una delle mie fatiche più grandi ma non solo qui a Siena come tu sai bene anche negli anni in cui ero a Roma ho cercato di soprattutto negli anni in cui ero vescovo ausiliare dove magari avevo qualche responsabilità in più rispetto alla vita al cammino delle comunità o delle parrocchie è proprio così uno slogan che avevo coniato che riprende un po' quello che tu dicevi adesso dalla gestione alla missione di fatto noi soprattutto i preti i preti diocesani i parroci ed è quello che vedo qui è in piccolo ma in fondo alcune situazioni si ripresentano non dico identiche ma quasi e di fatto i parroci sono assorbiti per una percentuale molto alta dalla gestione di un immobile e con il rischio che questo ti spompa e anche un po' ti demotiva perché ti ritrovi un po' a fare un altro mestiere un altro mestiere perfettamente esattamente abbiamo pochi secondi ancora cardinale però prego prego ripeto le problematiche che si aprono sono di una tale ampiezza e anche di una tale importanza e di un tale interesse che veramente in pochi minuti diventano proprio difficili da utilizzare io credo io intravedo io sarà che sono un po' così diciamo ottimista di natura non voglio cadere in una forma di ingenuità che poi insomma sarebbe assolutamente anti-realtà credo che ognuno di noi debba guardare la realtà e cercare di andare avanti in Italia ancora c'è una grande forza di tradizione popolare quella che trovo anche qui in questa città in questa diocesi che certamente va continuamente informata evangelizzata perché non resti solo una via tradizione o un folclore o un folclore l'esempio che ci dà Papa Francesco col suo Vangelo sine glossa che in fondo è il Vangelo di Francesco io la devo interrompere però mi pare che Vangelo e Popolo siano le due parole chiave di questo suo ragionamento assolutamente riprendendo assolutamente quello che Papa Francesco ci dice spesso grazie davvero ad Andrea Riccardi e al Cardinallo Iudice noi ci rivediamo domani alle 17.30 appuntamento anche stasera a 19.30 con le parole della fede il tema di stasera sono sesso e amore a più tardi non dobbiamo stancarci di pregare sempre non conosciamo alcun'altra soluzione ai problemi che stiamo vivendo sino quella di pregare di più e nello stesso tempo fare tutto quanto ci è possibile con più fiducia la preghiera ci permetterà di sperare contro ogni speranza di speranza Grazie a tutti